Angelo Ferreira, siamo alla conclusione del Grest Stivo 2016, che ha coinvolto numerosi ragazzi ma anche adulti. Il Movimento Giovanile San Francesco sta organizzando, proprio per il fine settimana, una o due giorni da dedicare interamente a coloro i quali hanno aderito al progetto. Ancora una volta, voi cercherete di riconoscere ai più bravi, se vogliamo, ai più meritevoli, anche un piccolo omaggio, un premio. Sì, l'idea nasce proprio dal riconoscimento nei nostri ragazzi di quelli che sono i talenti che il Signore ha donato loro. Allora, attraverso l'esperienza del Grest, abbiamo avuto l'opportunità non solo di permettere a questi ragazzi di far emergere questi talenti, ma di donarli agli altri. Ecco perché il sabato e domenica diventeranno due giorni dove tutti quanti siamo chiamati ad assistere a questo spettacolo di musica e di arte, ma anche una o due giorni dove anche la comunità deve riflettere, perché dico, se una città che soffre, una città che è in crisi, in realtà ha ragazzi, ha talenti del genere, è giusto sostenerli. Noi in primis lo facciamo nel nostro piccolo, dando loro un'opportunità di crescita diversa, ma diventa anche un monito, anche per l'amministrazione comunale, a collaborare con le realtà presenti, affinché si possa costruire davvero qualcosa di importante per i nostri ragazzi. Avete anche individuato un ospite d'eccezione che è molto seguito, soprattutto dai più giovani. Sì, in realtà la presenza di Christian Imparato vuole diventare un monito anche per i ragazzi a voler costruire su se stessi quello che è il loro futuro. Ecco perché abbiamo invitato Christian Imparato, che noto che è molto conosciuto, forse ero l'unico che non lo conoscevo, ero io. E quindi diventa anche un'opportunità per la nostra comunità gelese di vivere quella che è l'estate gelese, che ci auguriamo tutti quanti possa iniziare al più presto, nonostante l'estate si stia quasi concludendo. Però siamo abituati a vivere l'estate gelese in agosto, quindi stiamo semplicemente anticipando e non ci stiamo sostituendo all'amministrazione comunale, perché sa bene cosa deve fare. Noi vogliamo semplicemente fare questo regale ai nostri ragazzi e certamente alla nostra comunità. Ecco ricordiamo anche il luogo in cui poi si svilupperanno i due giorni. Sabato e domenica alle ore 21 in Piazza San Francesco. In realtà l'appuntamento più importante per noi ragazzi cristiani è domenica alle ore 19 con la celebrazione eucaristica e lo spettacolo dei ragazzi del Grest.